È scientificamente dimostrato che una sana ed equilibrata alimentazione sia fondamentale per prevenire l'insorgenza di malattie e per il percorso di cura. E di alimentazione si parla presso le sale della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena in occasione del terzo appuntamento con il salotto rosa del gruppo sinologico ASL di Cesena e IRS sede di Cesena. Quanto è importante mangiare sano, mangiare corretto e avere un corretto stile di vita per la nostra salute? È molto importante, non solo per la prevenzione delle malattie oncologiche di cui parleremo oggi ma per tutte le patologie in generale, in modo particolare il cardiovascolare che è anche la malattia che ha maggior incidenza oggi in Italia come mortalità, fondamentale. Parla di mangiare con gusto, quindi di cercare di mettere nel nostro carrello della spesa alimenti sani ma comunque che alimenti non ci diano poi tutte le privazioni. Ma la cosa importante è questa perché se noi chiediamo alle persone di fare un cambiamento nello stile di vita e nell'alimentazione con cibi che non sono buoni, il cambiamento non viene ben accettato. Quindi abbiamo dei cuochi che hanno aiutato noi nei nostri progetti proprio per trovare delle ricette per cibi diversi che magari non eravamo abituati ad utilizzare, penso al miglio che è un meraviglioso cereale e per cucinarli in maniera gustosa. Un altro consiglio è quello di non utilizzare il calcolo delle calorie per la nostra dieta ma di comportarci come? Allora, il calcolo delle calorie non è che serva molto perché diventa una cosa ossessiva, cioè se una persona vuole controllarsi contando ogni cosa che mette in bocca, le calorie che contiene, alla fine della giornata è sfinita, il secondo giorno non ha lo stesso approccio. Invece bisognerebbe mangiare degli alimenti che naturalmente o ci saziano e sono per esempio i cibi integrali, sono le verdure o che naturalmente non contengono tantissime calorie così che ne possiamo mangiare una quantità importante.